Geron, cosa ti aspetti di questa gara visto che sei in una posizione molto felice? Sarà una gara lunga, abbastanza difficile, però cerchiamo di fare il meglio. Abbiamo fatto una qualifica non male con l'ottavo posto e purtroppo siamo stati qualificati per un problema tecnico. Quindi vediamo, penso che la velocità l'abbiamo, quindi cerchiamo di andare a prendere punti. Anche perché qui è un posto dove si può sorpassare, quindi non è tutto perso. Non è più facile, però si può superare. Ti bocca al lupo.